Allora, allora, intanto iniziamo col pullare sul banner quello là All Stars Quindi vediamo se dal banner All Stars... No, pensavo un'altra FR invece, sti cazzi Vediamo se... Se ci dà qualcosa Guarda, allora, se mi esce Kais, lo faccio verde e blu solo per la scienza Se mi dà la BT e l'FR in queste free pull, lo faccio verde e blu solo per la scienza Vi giuro, lo faccio verde e blu Anche se non solo merita perché è un cestello Ma lo faccio verde e blu, proprio appositamente Allora, free ticket Ah, bella BT dal free ticket, no, vero? Troppo sopravvalutata la BT dal free ticket Però, attenzione Attenzione Ah, una 35, così? Va bene Allora, primulti Tanto Jack Garland ho tutto, quindi Allora, non c'è stato connecting Non c'è stato loading, quindi Ho il sospetto che questo sia Jack Garland Ho il forte sospetto che sia Jack Garland Perché non c'è stato connecting È vero che io ho scaricato i dati di gioco Però, solitamente con le armi nuove Anche un minimo connecting c'è Per cui ci credo poco È infatti 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 Il mostro si è rivelato Il mostro si è rivelato Jack Garland the monster Boh, andiamo Ticket Eh ragazzi, io ormai li conosco i miei polli Ormai li conosco i miei polli Li conosco, li conosco Lo so Lo so Va bene la ex C'è sti Kais Va bene, niente Sempre lui Vabbè È positivo il fatto che mi stia uscendo c'è sti Kais Perché magari mi si sta avvicinando Ah 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 Qui c'è stato un blocco La orb era dorata Ma c'è stato un blocco C'è stato un blocco C'è stato un blocco Oddio Non ci credo Non ci credo Non ci credo Nella stessa multi Nella stessa multi Nella stessa multi Nella stessa multi No Devo farlo verde e blu Ma io non lo voglio fare verde e blu Io l'ho detto per il meme No Ma che c'è Dai C'è sti Kais No Non lo voglio fare C'è sti Kais No Dai ma perché Ma perché C'è mi succedono queste cose Solo con i personaggi che non mi interessano C'è a dire una volta Mi succedono con i personaggi che mi interessino C'è mi è uscito tutto il kit Praticamente Kais C'è mi è uscito tutto il kit Vabbè la free pool da Jack Garland È Tutto guadagnato Qualsiasi cosa è guadagnato Ah minchè Orba azzurra tra l'altro E tra l'altro Il banner di Artemisia esce domani però Pensavo uscisse già stasera Invece esce domani mattina Perché giustamente esce l'otto Quindi esce praticamente domani mattina Peccato Vabbè Magari faccio un video pool a parte su Artemisia Perché comunque qualcosa la butto Qualcosa la butto Per la scienza Qualcosa la butto pure su Artemisia Porca miseria E sì perché non c'è il banner attivo ora Quindi dove deve uscire domani Il banner di Artemisia esce domani giorno 8 Perché oggi giustamente esce cesti cai Ma porca puttana Devo farlo verde e blu E vabbè Niente tocca Ragazzi Si paga Si paga pegno Vabbè Kais verde e blu